Molti punti interrogativi che ormai riguardano il Cosenza. Due, le certezze delle ultime ore. Si tratta di Luca Fiordilino e Angelo Corsi. E' ormai ufficiale, confermando così le voci dei giorni scorsi, che il centrocampista seguirà i due compagni, Arrigoni e Ciancio, in Via del Mare. L'ormai ex vecchia guardia rosso-blu vestirà la maglia giallorossa a Lecce, ritrovando il DS Meluso, tra gli autori certamente, di questi importanti spostamenti. Sono infatti cinque, insieme ad Arrighini e Lamantia, l'intoccabile della scorsa stagione a Cosenza, che Guarascio non è riuscito a blindare. Numero che potrebbe aumentare considerando la questione Vutov. Su di lui già pronti tre club. Buone notizie invece arrivano da Angelo Corsi. Il terzino ha infatti firmato un contratto che lo legherà ai Silani per altre due stagioni. E la società prova ora ad orientarsi proprio sui nomi d'entrata, viste già le cospiche uscite, alle quali potrebbe unirsi tra gli altri anche Paride Pinna. Da Cosenza per l'Asci News 24.